Fratelli d'Italia ha scelto Cosmo Tedeschi, Filoteo Di Sandro e Michele Orio non hanno dubbi. L'imprenditore Isernino sarà il loro candidato sindaco per le prossime elezioni di Isernia. Dopo aver proposto un proprio candidato di partito nella persona del coordinatore provinciale Alessandro Altopiedi e non avendo avuto condivisione sul nome da parte degli alleati di centrodestra, i dirigenti provinciali del partito, sentiti consiglieri e gli assessori comunali uscenti, hanno deciso di sostenere il candidato civico Cosmo Tedeschi. Siamo sempre stati convinti che il candidato sindaco per la città di Isernia dovesse essere indicato da Fratelli d'Italia per una serie di ragioni, afferma Filoteo Di Sandro. Tra queste quella che dopo Termoli e Capobasso, rispettivamente assegnate a Forza Italia e alla Lega, per Isernia dovesse esserci un esponente di Fratelli d'Italia. Purtroppo per una serie di ragioni gli alleati di centrodestra non hanno condiviso la scelta proposta. A questo punto, insieme ai dirigenti locali del partito e sentiti gli amministratori comunali, abbiamo deciso di aderire e sostenere la proposta civica di Cosmo Tedeschi, che è, continua Di Sandro, una persona seria, moderata, un imprenditore di successo, che conosce molto bene i problemi della città di Isernia e siamo sicuri che saprà, insieme alla propria squadra, dare delle risposte ai cittadini. Stiamo lavorando alle liste e ai programmi per la città, con l'auspicio che questa coalizione possa ampliarsi quanto più possibile con tutte quelle forze moderate e disponibili che credono nella possibilità di un percorso comune con Tedeschi sindaco. Sull'altro versante, quello degli alleati di centrodestra indicati da Di Sandro, rispunta il nome di Gabriele Melogli, ma l'ex sindaco, ancora una volta, ribadisce la sua richiesta di unità del centrodestra.